Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Oggi ragazzi dopo aver parlato in maniera più che esaustiva dei più recenti trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna torniamo un attimo indietro nel tempo per fare un piccolo approfondimento riguardo alle due nuovissime ultracreature rivelate ossia Ucistruttura ed Ucifragor tentando di indovinare tramite varie supposizioni quale sarà il loro tipo all'interno dei prossimi giochi iniziamo col dire che questi due Pokémon hanno alcune peculiarità sono di fatti due ultracreature introvabili nella stessa versione in quanto Ucistruttura sarà presente solo in Pokémon Ultra Luna mentre Ucifragor sarà un'esclusiva di Pokémon Ultra Sole ricevendo entrambi un po' lo stesso trattamento di Bazzuole e Firomosa e anzi secondo alcuni frame del trailer forse sostituendoli addirittura all'interno del gioco stesso ma la faccenda a questo punto sembrerebbe un po' più complicata del previsto difatti le due ultracreature di Sole e Luna hanno lo stesso tipo sia con le Otterolotta che comunque bene o male li rispecchia in un certo senso mentre per quanto riguarda Ucistruttura ed Ucifragor essi sono troppo diversi per avere entrambi i tipi uguali sarebbe assurdo addirittura per un'ultracreatura eppure un tipo in comune potrebbe tranquillamente esserci pensiamo un attimo a Celestile e Cartana anch'essi ottenibili rispettivamente in Pokémon Luna e Pokémon Sole che condividono il tipo acciaio nonostante come Pokémon siano clamorosamente diversi quindi in definitiva i due Pokémon avranno un tipo che li accomuna considerando che il tipo acciaio in Celestile e Cartana sarebbe comunque intuibile in teoria possiamo tentare di svolgere lo stesso ragionamento con le due nuove ultracreature ad esempio possiamo notare come all'interno di Ucistruttura vi siano degli esseri particolari o comunque un qualcosa che sembra in un certo senso comandare la struttura stessa darle vita una struttura che di certo non può muoversi da sola a caso sarebbe una cosa totalmente priva di senso mentre Ucifragor è un Pokémon che presenta le caratteristiche che potrebbero essere ricondotte più o meno ad un Pokémon di tipo Folletto oppure ancora meglio Psico considerando le due analisi fatte dei due Pokémon possiamo supporre che il tipo che avranno in comune sarà proprio il tipo Psico fatto ciò, beh, per determinare gli altri due tipi può essere utile partire dal nome stesso dell'ultracreatura Ucistruttura, come dice il nome è un edificio per quanto il dubbio tra lo scegliere il tipo roccia o il tipo acciaio per manga il fatto che usi ferro scudo all'interno del trailer sicuramente lo spinge di più verso il tipo acciaio a mio avviso parlando invece di Ucifragor in inglese Uciburst e quindi Scoppio potrebbe essere condotto al tipo elettro anche perché il suo nome francese è Ucidetonation che richiama le esplosioni generate tramite energia elettrica e come se tutto ciò non bastasse il suo nome italiano, che poi è il suo nome in latino e che tradotto in italiano significa oltre a rombo e scoppio tuono quindi aggiungendo un altro riferimento all'elettricità può tranquillamente condurre al tipo elettro concludendo il nostro discorso secondo l'analisi da me fatta Ucistruttura avrà il tipo acciaio Psico mentre Ucifragor possiederà il tipo elettro Psico e voi cosa ne pensate di questa teoria? avevate c'è in mente per i cavoli vostri dei tipi che questi Pokémon potessero assumere? se avete altre idee sentitevi liberi di scriverle nei commenti io spero che questo video vi sia piaciuto se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre in contatto con me e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ciao